Musica Ben ritrovati oggi in primo piano le nuove prospettive della città di Salerno sul fronte del turismo e del commercio siamo in compagnia nei nostri studi di Alessandro Ferrara che è l'assessore alle attività produttive al turismo del comune di Salerno ben ritrovato intanto assessore grazie come sempre per la sua disponibilità allora partirei dal tema del turismo è stato sicuramente un ottimo 2022 per la città di Salerno ci si prepara ad un'altra stagione possiamo dire da record a suo giudizio dal suo osservatorio insomma quali sono le prospettive? Giusto che lei ha evidenziato il 2022 abbiamo avuto un trend positivo abbiamo avuto sold out si può dire da aprile fino ad ottobre dove abbiamo messo proprio in evidenza la nostra città che ha potuto portare benefici non solo a livello commerciale e anche turistico ma anche dal punto di vista economico immagini che nel 2022 abbiamo avuto diciamo attività alberghiere pari al 75-80% in determinati periodi è come dicevo sold out con incidenza soprattutto del prodotto interno lordo abbastanza abbastanza soddisfacente quindi abbiamo avuto un 2022 veramente importante collegandoci al 2023 il 2023 il trend si prevede un 38% in più di turisti quindi stando alle statistiche nazionali si presuppone che dovrebbero venire in Italia circa 61 milioni di stranieri per un'incidenza sul nostro territorio italiano di 5 milioni e 7 e basta immaginare che adesso già a Salerno siamo al 65-70% con un sold out in costiera quindi dati veramente importanti ecco quando si parla di turismo generalmente in Campania si polemizza rispetto ai servizi al piano di accoglienza da questo punto di vista Salerno continua ad essere una meta privilegiata del turismo ad esempio per le fiere internazionali secondo lei in cosa bisogna migliorare proprio per l'accoglienza dei turisti e per i servizi da offrire a chi viene in città? Allora le fiere ci permettono di portare il nostro brand a livello nazionale e internazionale e anche grazie a questo abbiamo avuto un ottimo riscontro perché le posso dire che siamo stati attenzionati alla fiera di Milano, quella di Timini nonché alla fiera ultima di Berlino dove il circuito internazionale ha voluto che Salerno sia una meta molto molto importante sicuramente a Salerno c'è ancora tanto da fare fare turismo non è una cosa semplice sono importanti i servizi e è importante l'accoglienza cosa che noi stiamo predisponendo anche atti e procedimenti per poter dare sempre di più alla città ai turisti che vengono un'accoglienza di qualità Ecco stiamo vedendo le immagini dell'aeroporto di Salerno Gesac ha confermato che dal 2024 entrerà in funzione ufficialmente lo scalo di Costa Damalfi ecco secondo lei sarà questa probabilmente la svolta decisiva per un rilancio definitivo del turismo a Salerno e nell'area ovviamente di tutta la provincia allora diciamo 2024-2025 quindi sicuramente fare l'aeroporto a Salerno significa portare economia significa fare scambi commerciali significa incentivare sempre di più il turismo perché noi ringraziando veramente al Signore abbiamo due costiere che ci permettono di avere un valore aggiunto quella malfitana e cilentana ma a prescindere di avere un aeroporto su Salerno significa veramente avere un valore aggiunto per tutto quello che possa riguardare l'intera provincia sappiate che la provincia di Salerno è una delle province più grandi d'Italia abbiamo circa 158 comuni con un milione e cento mila abitanti oltre ad avere delle filiere agroalimentari che sono veramente importanti che già oggi senza aeroporti sono presenti in gran parte dei circuiti internazionali ecco, restando sul tema del turismo Assessore, ci si prepara la stagione crocieristica la stazione marittima insomma funziona alla grande insomma si appresta ad ospitare migliaia di vacanzieri le vostre aspettative quali sono? Allora noi non a caso il giorno 6 corrente mese avremo la conferenza stampa dove presenteremo con gli organi competenti nonché dal dottore Annunziata e il dottore Denigris la nuova stagione crocieristica del 2023 abbiamo circa 70 navi che attraccano sul porto di Salerno con un flusso turistico di circa 65.000-70.000 passeggeri non solo, bisogna anche immaginare un attimo che abbiamo le vie del mare ritornando al 2022 per le vie del mare attraverso Alicossa e il Travermar abbiamo avuto circa 1.200.000 passeggeri che sono passati dalla stazione al Masuccio alla costiera amalfitana quindi veramente abbiamo dei dati molto molto importanti quindi il mondo crocieristico è un ulteriore valore aggiunto con quello aeroportuale che permetterà sempre di più di far crescere la nostra città e il nostro territorio Certo, intanto grandi aspettative per la prossima estate la città di Salerno tra l'altro diventerà anche se vogliamo capitale della musica sono previsti concerti importanti allo Stadio Arechi artisti del calibro, insomma ne cito solo alcuni Mengoni e Vasco Rossi questo che cosa significa secondo lei per la città? Ecco, questo è importante perché questo non fa altro che portare non solo un flusso diciamo di ulteriori persone sul nostro territorio ma portare artisti del calibro di Vasco Rossi e di Mengoni questa è una cosa che a noi ci dà grande veramente l'infa e grande visibilità non solo nel campo turistico per quanto riguarda le aree marine per quanto riguarda il discorso anche della nostra città che abbiamo un ottimo diciamo storico-culturale importante ma dal punto di vista anche musicale e non solo come anche altri eventi che stiamo mettendo in essere di dare sempre di più diciamo quello che noi ci aspettiamo per cui io dico sempre fare turismo il turismo non è solo turismo diciamo di massa nel senso di entrata nell'ambito della città ma abbracciare un po' tutto quello che possa riguardare diciamo il turismo generale Ecco, tra l'altro grazie ad una intuizione possiamo dire che il governatore De Luca Salerno è la città in grado di fare turismo anche nei mesi invernali non solo nei mesi estivi grazie soprattutto a luci d'artista ecco, per questa rassegna così importante si prevedono significative novità per la prossima edizione ma le chiedo intanto che ricadute ci saranno soprattutto sul settore del commercio Beh, diciamo che per quanto riguarda le luci d'artista bisogna dare merito al governatore De Luca che ha avuto quest'idea nel... non oggi ma ieri e quindi diciamo il trend di turisti che sono su Salerno parliamo di numeri importantissimi certo, ogni anno noi dobbiamo sempre dare qualcosa in più per cui anche quest'anno c'è già in atto un'operazione dei nuovi, diciamo, titolari a poter organizzare l'evento ad un rinnovamento quindi ci auguriamo che le luci d'artista siano sempre più attrattive, più belle e che siano sempre più visibili per l'intero territorio campano perché Salerno ha portato il suo brand grazie anche alle luci d'artista infatti siamo conosciuti in tutto il mondo per questo grande evento che si fa a dicembre certo, infatti è proprio così intanto Assessore lei ha la delega anche al commercio il commercio, come è noto, vive una fase particolarmente delicata però anche su questo fronte le prospettive sono interessanti perché lei si sta impegnando per quanto concerne i distretti commerciali ecco, a che punto siamo? la legge regionale 7 del 2020 attraverso un avviso pubblico ci permette di poter costituire il distretto commerciale ed è importantissimo anche perché ci sono dei finanziamenti su base progettuali si immagini che la regione ha stanziato circa 5 milioni 5 milioni e 500 mila quindi questo significa anche dare un attimo una boccata d'ossigiene alle attività commerciali che in questo momento si trovano in un grande periodo di crisi non ci dimentichiamo che ne veniamo da una pandemia non ultima abbiamo la guerra una crisi energetica non indifferente non solo, abbiamo un'inflazione caloppante e proprio per questo noi ci dobbiamo attivare e incentivare soprattutto le piccole e medie imprese perché io ritengo quelli sono lo zoccolo economico del nostro paese quindi su questi atteggiamenti, su questi propositi di poter organizzare appunto manifestazioni che possono riguardare i distretti commerciali sono di estrema importanza certo, staremo a vedere e speriamo che si possa effettivamente voltare pagina rispetto alla crisi che si vive sul fronte del commercio intanto nell'ultimo weekend Salerno è stata al centro anche di uno spettacolo sportivo nelle acque del golfo c'è stata la Canoa Pola con le gare di Coppa Italia ecco, questo secondo lei che cosa può rappresentare per la città? Salerno si può candidare insomma in qualche modo a scommettere anche sugli sport acquatici? come le ho anticipato noi lavoriamo a 360 gradi il turismo non è solo turismo di città o di cultura o di mare il turismo è anche sportivo, il turismo è anche musicale e non a caso abbiamo avuto questo bel torneo la Coppa Italia Under 21 e Under 14 adiacente alla stazione marittima perché ci ha permesso anche di portare circa 400 persone sulla città di Salerno ci sono state 15 squadre con 40 partite quindi questo dimostra appunto che la città apre a tutti e a tutti e siamo sempre più contenti di poter fare tantissime altre manifestazioni Allora Assessore per chiudere questa nostra intervista ormai il 2023 è iniziato c'è la festività di Pasqua che già fa registrare il sold out nelle strutture ricettive della città e della provincia, 2023 insomma per l'economia della città di Salerno che anno sarà? Quali sono le sue anticipazioni, le sue previsioni? Le aspettative sono appunto come le dicevo siccome abbiamo partecipato ad una conferenza stampa alla BIT a Milano con la Camera di Commercio con l'ENIT e con altre rappresentanze di organi diciamo statistici prevede che Salerno e la provincia è una delle città più visitate in Campania non a caso come le ho detto avremo un trend del 38% rispetto al 25% dell'anno 2022 quindi potremmo veramente ritenerci soddisfatti e ci auguriamo che ci sia sempre più un flusso turistico come anche leggevo stamattina che c'è l'apertura anche per il mondo asiatico quindi diciamo potremmo anche ritrovarci quei cinesi che tanto aspettavamo che oggi si dovrebbero riproporre a venire nel nostro territorio che hanno avuto il piacere di conoscerlo e vi posso garantire che veramente l'hanno attenzionato Bene, grazie per questa intervista all'assessore al commercio e alle attività produttive e al turismo della città di Salerno Alessandro Ferrara grazie e complimenti tanto per il lavoro che sta portando avanti io ringrazio in regia Aldo Fenizzi abbiamo cercato insomma di mettere a fugo quelle che sono le nuove prospettive su fronte del turismo e del commercio per la città di Salerno grazie a quanti ci hanno seguito, arrivederci